Allora, Dina Begic, Milano vince gara 2 e va gara 3, una bella vittoria di squadra. Sì, è stata una bellissima partita, molto tirata, dal primo self fino all'ultimo. Sono molto contenta che abbiamo portato questa vittoria e sicuro che tutta questa atmosfera in Palazzetto ci ha aiutato tantissimo. Tanti anni che giochi a Monza, non c'eri però l'unico anno in cui non c'eri era quello in cui la finale l'ha raggiunta. Quanto conta per te? Molto, conta molto. Io spero che possiamo portare questa energia che abbiamo portato oggi in gara 3. Io spero che possiamo giocare il miglior per la vola di raggiungere quel finale. In che cosa siete stati più bravi oggi? Oggi abbiamo portato più energia che solito. Non abbiamo mai lasciato partita andare, abbiamo lottato su ogni punto e abbiamo fatto molto bene Muro in difesa. Io spero che questa partita che abbiamo fatto oggi possiamo ripetere ancora mercoledì.